L'Istituto Figlie del Divino Zello di Montepulciano torna ad organizzare per il quarto anno Aggiungi un posto a casa, un percorso sia per famiglie che per persone single per poter prendere in affido i bambini e ragazzi ospiti della struttura. Siamo arrivati alla quarta edizione con un titolo nuovo Aggiungi un posto a casa perché il bambino che entra in una famiglia non sostituisce un vuoto affettivo di una mamma che non può avere il bambino ma è un'aggiunta in più per dare la gioia e l'affetto a un bambino che ne ha bisogno perché come dice la legge sull'affido ogni bimbo ha diritto a vivere in una famiglia. Noi come comunità cerchiamo di creare un ambiente familiare, ce la mettiamo tutta però non siamo la famiglia quindi per questi bambini occorre una famiglia e ci sono tante persone che non conoscono questa legge, non conoscono queste situazioni quindi che vengano anche per conoscere, per capire cosa significa cos'è la legge sull'affido e cosa significa accogliere un bimbo è una cosa importante. Alcune famiglie, alcune persone dicono se l'affido è per poco tempo e poi il bambino va via mi rimane poi come faccio a distaccarmi e allora partiamo dalla famiglia se invece partiamo dal bambino che ha bisogno di affetto e di amore allora la famiglia deve essere onorata perché dà un po' di affetto ai bambini e quindi dà un po' di gioia il primo incontro è avvenuto il 6 maggio, già c'era un gruppetto però c'è stato solo un incontro di conoscenza fra famiglie quindi anche se arrivano dei nuovi il 20 maggio va molto bene si è tenuto il primo incontro, abbiamo fatto conoscenza abbiamo spiegato appena un po' perché sono venuti quella loro motivazione e soprattutto c'è stata una conoscenza uno scambio di idee fra le famiglie che sono arrivate qui da noi ed è stato molto bello e molto arricchente perché alcune famiglie sentono veramente il bisogno di accogliere altri li incontrano i nostri bambini a scuola, lo sport e quindi già sono integrati nella società e quindi accoglierli ancora e dare un posticino a casa è molto importante ecco quindi chiunque, qualsiasi famiglia può partecipare a questo corso aggiungi un posto a casa sì, non solo le famiglie con figlio o senza ma anche delle persone single perché l'affido può essere fatto anche per persone single l'affido che prima mi spiegava proprio lei ha varie modalità sì, c'è la legge sull'affido che è una legge che parte dal 184 del 1983 che poi è stata modificata nel 2011 e poi nel 2015 con la continuità affettiva perché questa legge mette al centro il bambino che ha bisogno di una famiglia quindi ogni bambino ha diritto a una famiglia e le modalità per accogliere un bambino sono le più diverse si può accogliere massimo secondo la legge per due anni e si può prorogare ancora e ci sono stati anche degli affidi sine die oppure degli affidi temporanei perché è una mamma che sola lavora tutto il giorno e quindi ha bisogno di un affido diurno oppure è periodo estivo ecco quindi le modalità dell'affido sono proprio tante e la differenza fra l'affido e l'adozione è proprio quella che la famiglia affidataria dovrà permettere i contatti con la famiglia di origine del bambino vogliamo dare dei numeri di telefono ai nostri telespettatori per coloro che volessero partecipare a questi corsi noi abitiamo un centro storico a Montepulciano a Piazza San Francesco 2 e il telefono è 0578 75 70 05 e poi c'è un'email che è ant.montepulciano.it oppure fdzmontepulciano.it che vengano numerosi e interessati a conoscere questa proposta conoscere questa proposta